...di due dei migliori interpreti del mondo in quel ruolo. Non riesce a bloccare, attenzione, non ha un gol, non ha un gol. Una cosa che fa malissimo questo. Eh sì, è stato un intervento. Tocco verticale interessante. L'ha messa dentro con un tocco morbido a scavalcare il portiere. Queste le immagini dei gol riprese da un altro. In golazione è andato al tiro dopo un'interno. Sanchez. Ugo Sanchez. Catte! Ci è mancato poco qui Stefano, l'aveva indirizzo. Mané. Prova a piazzare. Portiere che svetta la conclusione senza problemi. Ecco Pogba. Cross respinto qui. Sono ancora sopra di un gol, ma certamente hanno riaperto la gara. Pallone che non è uscito di molto, ma deve essere l'occasione per andare a più due. Buona rinquisizione qui. C'è tutto il loro orgoglio, il loro spirito di battaglia. Nel gol che vale il pareggio. Loro non mollano. Battita bellissima, equilibrata. Pogba. Salta il difensore. Fioco sciotta. Incredibile. Adesso sono addirittura avanti. Lo spazio per andare in contropiede. A metri per andare. Palla ancora lì. E la messa. Gesto tecnico spettacolare. Conclusione al volo perfetta. Per tecnica e coordinazione. Si libera bene, occhio, perché è solo. Tiro, mura, areo là. Che parata. Attenzione, passa il difensore. Fioco sciotta. Palla ancora in gioco. Occhio. Punta l'area. Ugo Sanchez. Intervento fondamentale in area di rigore. C'è il fuorigioco, secondo l'arbitro e gli assistenti. Sanchez. Da lì può andare col cross. Game over. E' un bel colpo per gli ospiti. Tre punti fuori casa per loro. Beh, una vittoria di carattere. La vittoria di carattere. E' un animal di merito.